Musica Buongiorno a tutti voi dalla redazione di Teletruria e ben ritrovati. La cronaca ha subito ancora sangue, purtroppo sulle strade aretine muore una donna di 81 anni dopo un frontale sulla provinciale 27 a Broglio nel comune di Castiglione Fiorentino. Il servizio è di Luigi Alberti. L'impatto è stato violentissimo tra le due auto di piccola e media cilindrata quando i soccorritori sono arrivati. La scena è stata drammatica, quattro feriti tutti in gravi condizioni e una vittima, Ada Orazioli, aveva 81 anni. La donna era seduta, secondo le prime indiscrezioni, nel sedile posteriore dell'auto che la stava trasportando. Era in compagnia di altri familiari. In quel momento sulla collina di Broglio, che sovrasta la Valditiana, c'era la nebbia e il fondo stradale era umido. La stessa indicazione del segnale attesta che quel segmento è assai insidioso. Difficile capire la dinamica. Toccherà agli agenti della Polizia Municipale di Castiglione Fiorentino, diretti dal comandante Marcellino Lunghini, fare la ricostruzione della tragedia. Sul posto anche i soccorritori del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della donna. E' anche il personale del servizio strade della provincia che ha provveduto alla bonifica della strada. Un ferito in codice rosso di 82 anni è stato portato alle scotte. Un uomo di 58, anche lui in codice rosso, portato con il Pegaso a Firenze. Mentre una ragazza di 23 anni è stata ricoverata in codice giallo al San Donato. Ancora cronaca, numerosi reati ambientali contestati ad una nota azienda del settore forestale. Nell'area di Gargonza, a Monte San Savino, i carabinieri della Procura di Arezzo hanno portato alla luce l'esistenza di un significativo aumento dei tagli boschivi e di un contestuale anomalo utilizzo di alcune superfici forestali per la produzione industriale di cippato di legno. In pratica sono state aperte intere radure e realizzate nuove strade a servizio degli stabilimenti mobili realizzati in assenza di qualsiasi autorizzazione edilizia, paesaggistica e ambientale. E ora voltiamo pagina al Via Oggi Saldi Invernali e questo è l'andamento nelle prime ore della mattinata in centro. Sono partiti i saldi invernali, noi siamo qui nel corso di Arezzo per verificare quelle che sono le aspettative. I commercianti in realtà sono già soddisfatti di questo periodo natalizio, soprattutto grazie ai mercatini del Natale. Signora, ha approfittato dei saldi? Sì, sto approfittando. Che cosa ha preso? E di solito, diciamo, quello che uso di solito, vestiti e qualche regalino ancora. Che cosa avete comprato? Jeans e stivaletti. Li hai visti oppure avevi già pensato a cosa comprare? Avevo già pensato a cosa comprare. Stamattina ancora no. Ma state guardando? Sì, guardiamo un attimino. Vi siete dati un budget? No, senza budget. Approfitti dei saldi? Ovviamente. Ma hai già un budget a disposizione oppure quello che trovi, trovi? No, assolutamente. Vado su acquisti mirati, specifici, già programmati. Stanno iniziando bene le persone, ho visto che in giro ci sono e aspettiamo ora il ponte per poter lavorare bene, pensiamo. Ecco, come sono andate queste festività natalizie? Quante speranze riponete sui saldi? Allora, le festività sono andate benissime. Allora, avevamo delle alte aspettative ma sono andate oltre le nostre aspettative. I mercatini ci hanno aiutato tanto. Oggi, niente di che, infatti non si è visto nessuno. Quello che è andato bene invece sono stati i mercatini. Si è fatto il doppio dell'anno scorso. Abbastanza buone, devo dire la verità. Poi noi abbiamo avuto un presaldo, quindi si poteva accedere dal 27. Anche gli uomini approfittano dei saldi oppure no? Eh, a volte sì, se lo trovo giusto. Che cosa ha acquistato finora? Golf e pantaloni. Tutto per sé? Tutto per me. Farà dei regalini? Alla moglie niente. Ed oggi è il grande giorno di Alessandro Polcri come presidente della provincia di Arezzo dopo il ribaltone elettorale del 18 dicembre scorso. Il sindaco di Anghiari presenterà le linee programmatiche in Sala dei Grandi dove è stato convocato il primo consiglio provinciale. Polcri apre alla Casa dei Comuni e chiede un sostegno più ampio possibile. Curiosità per la risposta dei gruppi di centro-destra che rischiano di andare in minoranza. Intanto non si placa la polemica politica dopo il rinnovato attacco di Lucacci, di Fratelli d'Italia, a Lucia Tanti. Cambiamo ancora argomento. È casentinese l'autore della vignetta pubblicata da Charlie Hebdo e che ha scatenato un grande cancan mediatico. Irriverente, sarcastica come deve essere la satira, soprattutto quella che pubblicano le pagine di Charlie Hebdo, la rivista francese già nota le cronache internazionali per i suoi problemi con il mondo dell'oltranzismo islamico rappresentato dai talebani in Iraq e dal regime teocratico dell'Iran. È proprio la vignetta che in queste ore ha fatto il giro del mondo, una vignetta a sostegno della lotta di liberazione delle donne in Iran dopo la morte di Mahshamini e per la emancipazione del mondo islamico ha lasciato il segno. L'autore è un casentinese che da anni collabora con i media internazionali. La signora che fa una necessità corporale in testa alla Yatollah Kaminei è stata ideata e disegnata in provincia di Arezzo. Probabilmente l'autore non pensava di scatenare questo putiferio mediatico. Sta di fatto che tutto il mondo ne parla con inevitabili effetti collaterali. Dalla prefettura questa mattina è arrivata una segnalazione. La libertà a un prezzo, anche dove esiste. E come abbiamo già visto queste sono ore dedicate agli acquisti e anche al tradizionale scambio dei doni per l'Epifania ma sono anche le ultime ore di vacanza per molti aretini. L'Epifania tutte le feste le porta via recita così un vecchio proverbio popolare ma non è il caso di farsi prendere dalla tristezza. Dopotutto a mantenere alto il morale ci pensa un'antica tradizione che di dolcezza e serenità ne offre a volontà e soprattutto durevole per l'intero mese se si vuole di gennaio. Le associazioni dei consumatori stimano che quasi 5,2 milioni di italiani approfitteranno del ponte della Befana per concedersi ancora uno scampolo di vacanza ma soprattutto scambiarsi le tradizionali calze. I prezzi vanno da una calza che può costare 6-7 euro fino ad arrivare anche a 20-30 euro se si riempie con dolci ed oggetti personalizzati. Ci sono poi quelle fatte a mano dagli artigiani che ovviamente fanno salire il prezzo ma anche sicuramente la qualità. Dicevamo anche però del ponte. Le vacanze vanno avanti, molti sono andati in luoghi caldi sparsi un po' per il mondo ma è andata fortissima anche la montagna dove però se si parla di appennino manca la neve. Benissimo le città d'arte, in questo caso Arezzo guida una classifica speciale e si prepara ad affrontare l'ultimo grande weekend che in presenza della Befana ma anche dei saldi farà registrare sicuramente numeri dal record. E per la pagina degli appuntamenti domani il Palazzo di Fraternita ospita la presentazione del libro postumo di Luigi Luccherini. L'appuntamento è alle 17. Vola Pettirosso Vola è il libro scritto dall'ex sindaco di Arezzo Luigi Luccherini negli ultimi due anni di vita e pubblicato ora dalla famiglia. È proprio il percorso della sua vita, fatta una vita lunga ovviamente perché 90 anni di vita in un libro sono descritti in una maniera molto interessante perché ovviamente lui ha attraversato tante epoche e di queste epoche ha fatto un mix descrivendo non solo quello che era la sua vita ma anche tutto il contorno con cui ha vissuto. Perché è stato scelto questo titolo che è legato ad un episodio preciso? È legato ad un episodio in cui questo Pettirosso che era andato a finire contro un vetro di casa era tramortito in terra, lui l'ha preso, l'ha tenuto in mano per un'oretta finché quest'uccellino è volato di nuovo e quindi per lui è stato come ridare vita a un essere vivente insomma è una cosa che l'ha colpito. In queste pagine non mancano flashback sulla vita della città e sul suo sviluppo con un attaccamento particolare a Piazza Grande dove Luccherini ha vissuto. Ho voluto proprio che fosse il 6 di gennaio la presentazione del libro perché mio marito finiva gli anni il 6 di gennaio quindi questo è il regalo che io gli faccio personalmente. L'ingegnare Luccherini pubblico e privato, questo si scoprirà nella presentazione di questo libro? Sì, e invito i cittadini aretini a venire qui all'interno del Palazzo di Fraternita come atto di riconoscenza verso un uomo che ha impegnato gran parte, anzi tutta la sua vita per lo sviluppo della nostra comunità. Adesso noi ci trasferiamo a Castiglion Fibocchi dove la Befana ha portato un bel assegno alla Fondazione Mayer e il 15 gennaio invece si andrà al Gaslini di Genova. A Castiglion Fibocchi continua la solidarietà nella programmazione natalizia dopo il pranzo sociale offerto agli over 75, arriva la tradizionale Befana per i bambini dai 3 ai 10 anni. Quest'anno l'amministrazione ha deciso di fare una donazione alla Fondazione Mayer a supporto dell'ospedale pediatrico Fiorentino, acquistando gadget che la Befana porterà domani venerdì 6 ai bambini di Castiglioni. Dai bambini castiglionesi ai bambini del Mayer, afferma il vice sindaco Rachele Bruschi. L'ospedale Mayer è sempre stato l'ospedale pediatrico di riferimento del territorio per problematiche più importanti. Il sindaco Marco Ermini ed il vice sindaco Rachele Bruschi a una delegazione dell'Associazione Giovanile Ottava Torre hanno consegnato un gigantesco assegno simbolico da 1000 euro alla Fondazione Mayer. La Befana castiglionese però non si fermerà nel piccolo borgo, ma il 14 gennaio volerà, come ogni anno ormai da oltre un quarto di secolo, all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, grazie al gruppo Frates di Castiglion-Fibocchi e al gruppo Neuroblastoma Infantile per consegnare la tradizionale borsa di studio. E si rinnova anche l'appuntamento musicale alla Pieve con il concerto dell'Epifania per il 45esimo del Calcit. Protagonisti saranno i ragazzi della Cesa Alpino. Tutto pronto per l'appuntamento musicale dell'Epifania organizzato dal Calcit, è così Presidente? Sì, quest'anno cade il 45esimo anno dell'inizio dell'attività del Calcit, perciò il concerto di quest'anno sarà proprio dedicato al 45esimo della Fondazione del Calcit. Tra l'altro ci saranno protagonisti dei giovani musicisti. Sì, dei giovani musicisti, io amo moltissimo coinvolgere la gioventù, i giovani ragazzi che iniziano la strada della musica, la Cesa Alpino è una scuola dove ha iniziato a suonare mio figlio vari anni fa e quindi ho avuto il piacere di contattare la dirigente e di invitare l'orchestra delle scuole medie. Ricordiamo che Pieve a Santa Maria è una chiesa che si adatta in maniera particolare a manifestazioni di questo tipo. Sì, è una chiesa, intanto ringraziamo anche della disponibilità a Don Alvaro e poi è veramente una chiesa dove il concerto può esprimersi veramente al meglio. Questo è il programma? Il programma è vario, l'orchestra dei giovani farà dei pezzi abbastanza moderni e alla fine classici music di Natale e io ho scelto un repertorio sempre classico ma sempre di melodie conosciute, Bach e altri autori conosciuti. Vado sul sicuro? Sì, vado sul sicuro. L'appuntamento per chi sarà interessato è alle 21 la sera dell'Epifania ad Arezzo. E noi siamo arrivati al termine di questa edizione del Tg di Teletruria, abbiamo comunque il tempo per guardare assieme la programmazione di questa sera come sempre e dopo il Tg continua il ciclo Natale in classic con il film La città dei ragazzi, la cui interpretazione valse a Spencer Tresi il secondo Oscar consecutivo, la presentazione della pellicola come sempre affidata a Barbara Perissi e Luca Bindi e poi alle 23 l'appuntamento con in compagnia di Alessio. È davvero tutto, grazie a tutti voi.